Mille, mille, mille iscritti al canale YouTube e c'è solo una cosa da fare, festeggiare. Oh yes, e per festeggiare sai cosa faccio? Beh, ti faccio quattro regali. Ragazzi, voi siete matti. La scorsa settimana il canale YouTube è arrivato a mille iscritti e se non sbaglio adesso lo abbiamo già superati. Quindi mille persone che ogni settimana si allenano con me e dedicano il proprio tempo libero alle mie video lezioni, ai miei video e lo rubano magari dalla famiglia o da altri hobby per praticare karate assieme a me. Io veramente vi ringrazio perché, lo so, sembra una frase fatta, ma questo non era assolutamente un risultato neanche immaginato. Come chi mi segue da un po' più di tempo sa, io ho iniziato questo canale YouTube nel periodo del Covid. A dire il vero il canale esiste dal 2012, però ho iniziato a pubblicare in maniera importante durante il periodo del Covid per stare vicino ai miei allievi, visto che il dojo era chiuso. E da questa periodicità, da queste lezioni che ho iniziato a pubblicare, è nato veramente un micro movimento di appassionati del karate che mi stanno seguendo ogni settimana e che tra l'altro, cosa bellissima, stanno sviluppando una vera e propria community perché tramite i commenti su YouTube continuiamo a confrontarci, a condividere le proprie esperienze e a crescere assieme. Io credo che questo sia un qualcosa di meraviglioso. Non so se è accaduto su altri canali dedicati a questa disciplina, ma io vi ringrazio per tutto l'affetto che mi state dimostrando e vi ringrazio anche perché non c'è giorno che passa dove non mi arrivi o un messaggio su Facebook o un commento su YouTube o un'email personale in cui vi mettete in contatto con me, mi date la possibilità di conoscervi sul serio, di conoscervi personalmente e io veramente vi sono grato di questa cosa. Continuo a esserne stupefatto perché il canale sta crescendo, ripeto, in maniera esponenziale, stiamo parlando del 270% al mese e io davvero non so cos'altro dirvi se non grazie, grazie, grazie. Tra l'altro non ve lo nascondo, a voi lo posso dire. Il periodo del Covid è stato un periodo particolarmente difficile, lo è ancora, il periodo della quarantena, però è stato un periodo particolarmente duro perché io e Valeria ci siamo visti nell'arco di una settimana distruggere, portare via in un lampo un lavoro fatto qui ad Alessandria in dieci anni e non ti nascondo, non nascondo a tutti voi che l'umore non era proprio dei più alti, trovare la voglia, l'energia, la forza per stringere i denti e andare avanti nella burrasca non è stato per nulla semplice e anche oggi alle volte quando guardiamo un po' il dojo e insomma l'attuale frequentazione che ha il dojo e tutte le norme che dobbiamo seguire, non è facile, non è per niente facile ma vi posso garantire che l'entusiasmo, la forza, l'energia che voi mi state passando mi stimola veramente ad andare giù, testa china e un passo alla volta a camminare contro il vento, contro la pioggia, contro la grandina, contro qualunque roba accada e ad andare avanti, io non so se in futuro ci chiuderanno di nuovo, sapete cosa vi dico? Non mi importa, noi siamo qui e continueremo a fare karate, qualunque cosa succeda e ci terrei davvero tantissimo a ringraziare 5 persone in particolare anzi 6, ne stavo dimenticando una, che sono Massimo, Stefano, Stefano, Sofia, Marianna e Daniele, quello che io chiamo sempre il mio fratello di pratica perché senza di loro io probabilmente non sarei qui oggi a farvi questi video, non avrei trovato lo stimolo e l'energia per iniziare questo percorso assieme a voi che veramente mi sta dando tantissime soddisfazioni. Io non so come altro esprimervi la vostra gratitudine, se non ripetendovi ancora una volta grazie perché oggi con i tempi in cui viviamo, con la frenesia in cui viviamo e anche con tutti i pensieri che abbiamo credo che non sia per niente scontato che tu e tutti gli altri dedichino appunto del tempo libero che ripeto è la risorsa più preziosa che abbiamo, voi la prendete e la dedicate a me, la dedicate a praticare karate con me e questo veramente mi riempie di gioia e di felicità, però oltre a questo mi sembra il minimo per festeggiare farvi ben quattro regali. Ci sono quattro regali che ho preparato per te e per tutti gli iscritti al canale YouTube quindi prendi carta e penna perché guarda oggi il Natale arriva prima e comunque non ti preoccupare perché se ti dimentichi qualche pezzettino per strada scrivo tutto nella descrizione del video oppure trovi comunque tutto sul post che metto sul blog del Dojo Shinsui quindi vai su dojosinsui.com slash blog e lì trovi tutti i link che ti sto per dare per cui se ti consiglio di mettere il cellulare in silenzioso, chiuderti la porta, dire a tua mamma che stai studiando insomma fai quello che vuoi ma adesso ho bisogno che tu mi dia la massima attenzione per i quattro regali che ti ho preparato. Regalo numero uno, passeggiando per la via, eccolo qua, da che parte sta, qui, così è arrivata la versione cartacea quindi se hai piacere la puoi acquistare su Amazon è il libro che ho scritto io, il libro che io regalo a tutti i miei allievi che vengono qua al Dojo l'ho messo a disposizione come forse sai già per tutti gli appassionati di karate in questo libro ti racconto la storia, i riti, ti spiego i gesti che ci sono nel karate in maniera tale che tu possa avere una conoscenza più approfondita dell'arte una conoscenza che purtroppo manca a moltissime cinture nere che ho conosciuto nell'arco della mia pratica allora come ti dicevo c'è la versione cartacea, carina, mi è venuta bene, l'ho impaginata io ho fatto un lavoro discreto, però per sette giorni a partire da oggi tu la potrai scaricare su Amazon in versione Kindle praticamente gratis, ovvero la troverai al costo di 90 centesimi in realtà l'avrei voluta mettere gratis ma Amazon non me lo permette, allora sai che faccio? e io la metto a 90 centesimi che è la cifra più bassa, qui la posso mettere, è praticamente un'inezia io ti consiglio a questo punto di cliccare sul link che troverai in descrizione al video e andare ad acquistarlo subito o alla fine del video, vedi un attimino tu, metti se vuoi in pausa e vallo a prendere subito. L'edizione Kindle è uguale, la puoi leggere sul telefono con l'applicazione di Amazon sul tablet oppure su Kindle Paperwhite o via dicendo in caso tu abbia il lettore di Amazon se no c'è la versione cartacea, questa purtroppo non ho potuto metterla in scolto ma la versione Kindle è praticamente regalata poi regalo numero due in quest'ultimo mese molti di voi mi hanno contattato chiedendomi se c'è la possibilità di fare allenamento online un allenamento vero e proprio, strutturato allora la possibilità c'è, sì o meglio ci sarà e si chiamerà Karate Anywhere durante il periodo del covid ho sviluppato con 5 persone in versione sperimentale, in versione beta come si dice adesso, una piattaforma, perché dire un programma è riduttivo una piattaforma per allenarsi online con il Karate, nel Karate e è stato un lavoro piuttosto lungo, la fase sperimentale è finita da poco e a breve lo metterò a disposizione di tutti si tratta proprio di un programma strutturato, ok? che parte dalle basi e va via via crescendo al momento c'è un primo blocco di lavoro e poi pian piano lo aggiorno andando avanti e si baserà su delle video lezioni molto dettagliate, molto accurate con video di alta qualità e su una community online dove tu potrai sempre scrivere, chiedere informazioni o rimandare anche i tuoi video per far sì, scusami, che siano corretti direttamente da me adesso mi ci vogliono ancora un paio di settimane per poterla rendere pubblica però ho creato una lista d'attesa e come ti dicevo prima troverai sempre anche questo link in descrizione al video ora perché tu ti dovresti iscrivere alla lista di attesa di Karate Anywhere? per due motivi, motivo numero uno, tutti gli iscritti alla lista d'attesa avranno la possibilità qualora desiderassero iscriversi a Karate Anywhere di iscriversi con uno sconto veramente grande a vita ok? quindi nel momento in cui tu sei iscritto alla lista d'attesa, apro le iscrizioni e tu desiderassi iscriverti puoi iscriverti a Karate Anywhere con uno sconto che dura tutta la tua vita fino a qua, o la mia vita, insomma, dipende un attimino da come vanno gli eventi fino a quando questo programma sarà disponibile online e potrai usufruire di questo sconto ok? quindi solo chi è iscritto alla lista d'attesa lo potrà ottenere seconda cosa perché tutti coloro che si saranno iscritti alla lista d'attesa riceveranno subito, oggi stesso, un videocorso in sette lezioni ok? dove andremo a vedere un po' più approfonditamente alcune cose per quanto riguarda le basi del Karate e poi ci sono un paio di sorprese che non ti dico perché sennò se tolgo un po' di pepe non ti stimolo quindi perché iscriverti alla lista d'attesa di Karate Anywhere uno, perché se poi desiderassi allenarti online con me avresti uno sconto a vita sul programma due, perché hai la possibilità di ricevere gratuitamente un videocorso in sette lezioni così vedi anche magari un attimo cosa vuol dire allenarsi online hai un assaggio di quello che potrebbe essere un ipotetico programma di allenamento poi, regalo numero tre se ti va ci possiamo sentire tutte le settimane cosa voglio dire? voglio dire che oggi apro un canale Telegram che si chiamerà anche quello Karate Anywhere così manteniamo lo stesso nome, la stessa linea dove durante la settimana in maniera un po' artistica su quel canale te lo dico, non sarò preciso come qua su YouTube durante la settimana io condividerò con te magari aneddoti, storie approfondimenti sulla filosofia, sulla storia del Karate o riflessioni che mi sono venute durante le lezioni qui al Dojo è gratuito, basta che ti scarichi Telegram se non ce l'hai e ti unisci al gruppo oppure se ce l'hai clicchi sul link che trovi sempre in, bravissimo, in descrizione e ti unisci al canale tra l'altro facendo così, se hai piacere hai anche la possibilità di iscrivermi direttamente al mio profilo Telegram e ti rispondo io decisamente in modo più rapido rispetto a Facebook, YouTube e varie ed eventuali e poi ultimo regalo la chicca che ti ho tenuto in fondo se ti va il 31 ottobre ci possiamo vedere ho intenzione, essendo ormai io diventato uno YouTuber ho intenzione di fare la mia prima live qui su YouTube dove penso che lavoreremo una mezz'oretta assieme e io sarò a disposizione per chiarimenti, domande, curiosità insomma tutto ciò che è inerente al Karate lo possiamo sviscerare in questa mezz'oretta non ho ancora stabilito bene diciamo un protocollo perché l'idea mi è venuta così su due piedi per cui comunicherò tutto sui canali social Facebook e Instagram quindi ti consiglio di iscriverti, di mettere un mi piace alla pagina Facebook del Dojo e di seguire l'account Instagram del Dojo così sarai informato sull'orario della live e su come si svilupperà anche perché essendo io imbranato e dato che so che non è proprio la cosa più rapida fare la live su YouTube potrebbe anche essere che se abbia difficoltà giro tutto su Facebook o su Instagram va bene? per cui se vuoi partecipare alla live che probabilmente sarà al mattino ti consiglio di seguirmi sui canali social lo so oggi non ho fatto lezione però veramente ci tenevo con tutto il cuore a ringraziare te e ringraziare tutti gli iscritti ti ricapitolo un attimo i quattro regali anzi ti dico in che ordine ti conviene andare a spulciarli andarli a prendere a sgraffignare numero uno iscriviti alla lista di attesa di Karate Anywhere il mio programma di allenamento online che sarà disponibile fra qualche settimana la lista di attesa non è vincolante ti permette solo di ricevere le informazioni prima di tutti gli altri e qualora ti desiderassi iscrivere avrai la possibilità di farlo ottenendo uno sconto a vita ok? uno sconto a vita decisamente generoso sul programma sull'intero programma di allenamento e poi cosa numero due puoi scroccare un videocorso in sette lezioni e questo videocorso lo avrà soltanto quanto meno per ora chi si iscrive alla lista d'attesa per cui quantomeno per scroccare il videocorso ne vale la pena ok? poi dopo aver fatto questo ti consiglio di iscriverti al canale Telegram di Karate Anywhere che è il canale in cui io da credo la prossima settimana inizierò a bombardarti con aneddoti racconti, storia, filosofia, riflessioni appunti tecnici anche su tutto quello che riguarda il karate e tramite il quale potrai iscrivermi direttamente per cui può essere una cosa simpatica cosa numero tre iscriviti alla pagina Facebook e al canale Instagram del Bojo così saprai tutto per quanto riguarda la live che organizzerò ripeto il 31 ottobre ho voluto farla il 31 ottobre perché almeno c'è un po' di tempo per permetterti di organizzarti così festeggiamo il capodanno celtico assieme e poi ultima cosa vai su Amazon e o lo prendi in versione cartacea il mio libro oppure lo trovi a 90 centesimi solo per una settimana da oggi fino a sabato prossimo dopodiché torna al prezzo pieno io lo so te l'ho già detto ma non ci posso far niente ti ringrazio ancora davvero dal profondo del mio cuore questo canale tra l'altro mi sta dando la possibilità di crescere anche tecnicamente mi sta facendo mi sta obbligando a ragionare su determinate cose su cui non stavo più ragionando e mi sta dando nuova forza e nuova vitalità ogni giorno per cui davvero grazie, grazie, grazie noi ci vediamo sabato prossimo e riprendiamo a fare lezione per adesso puoi ripassare le tecniche di base che tanto vanno sempre bene oppure cosa più furba scrocca scarica gratis il videocorso gratuito che ho preparato per te in sette lezioni io ti auguro un buon weekend ti mando un abbraccio grande e ancora davvero un grazie dal profondo del mio cuore alla prossima settimana un abbraccio ad Eugenio ciao